Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo primo video di mio padre e oggi siamo con mio padre, questo è il suo primo canale Saluta papà, bene, oggi faremo una cosa, papà mi ha fatto un costume papà, tu prima bello che non Ora vi va a vedere il costume di Spider-Man, quello nero Sta arrivando Spider-Man, il nero Eccolo, è lui Vi presento Spider-Man nero Vai Spider-Man, tutti mi aspettano Ecco il mio costume, Spider-Man nero Lancia la ragnatella, vai Saluta a tutti, grazie per la puntata No papà, no Una puntata deve durare di più, abbiamo fatto un minuto Io l'ho fatto di due minuti, capito? Bene papà, devi valere, non ti voglio, non ti vergognare Ecco adesso vi ho presentato Spider-Man nero Il nuovo costume di Spider-Man nero E poi faremo Torneremo con il costume di Spider-Man, quello rosso Ciao amici Aspettate ragazzi Ora vi farò vedere la partita a nascondi Ora vi farò Vabbè, tra poco un'altra puntata Ci vediamo tra poco papà Pum